Il primo relatore della giornata è la professoressa Antonella Canini, alla quale abbiamo chiesto di intervenire sul tema la flora di interesse apistico con una domanda. Secondo lei professoressa è una biodiversità a rischio la flora di interesse apistico? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito e quindi di poter partecipare a questa interessantissima manifestazione. Saluto ovviamente il sindaco, l'assessore, l'ambasciata e i colleghi e tutti gli ascoltatori. Il sindaco ha introdotto benissimo il tema del problema per il nostro futuro nel quale uno degli aspetti più interessanti che si vanno a studiare, che poi sono anche... Scusate ma cerco... Scusa, sto cercando di far partire tutto. Va bene, io continuo a parlare. Poi quando capisco... Sì, grazie. Allora, il sindaco ha introdotto il tema della conservazione della biodiversità come uno dei temi prioritari di quelli che sono gli interessi sia della comunità europea ma anche del sistema globale proprio perché sono parte fondante di quello che è il New Green Deal, di quello che è l'economia circolare, di quello che è lo sviluppo sostenibile. La biodiversità è tutta in pericolo, tanto per rispondere subito al dottor Pacioni perché ovviamente è l'insieme di specie che sono sottoposte per lungo tempo a una serie di interazioni tra l'uomo, i servizi ecosistemici e la natura. Sicuramente nell'evoluzione queste interazioni sono state mitigate a lungo per cui diciamo che voi pensate che le angiosperme, cioè le piante a fiore, si sono evolute circa 140 milioni di anni fa e per tutto questo tempo c'è stata una lunga interazione tra impollinatori e piante a fiore perché entrambi instaurano un rapporto simbiotico che permette... Chiedo scusa professoressa, chiedo scusa, provi a condividere adesso? Perfetto, allora però io devo condividere sul mio computer... No, aspetta, aspetta, aspetta... Mi sente? Sì, sì... No, guardi, penso che sia complicato, quindi lasciamo aperte. Allora, dicevo che sicuramente questa storia degli esseri viventi che è stata segnata appunto da un lungo periodo di tempo ha permesso... Voi vi vedete se io faccio così? No. Scusami Mirko, se io faccio così tu mi vedi? La sua presentazione non la vediamo, vediamo lei. Perfetto, ma mi vedete comunque perché io sto cercando comunque di mantenere il filo attraverso, diciamo, la presentazione. Allora, dicevo, oltre al 90% degli angiosperme hanno bisogno degli impollinatori per riprodursi e quindi questa relazione simbiotica tra i due è il risultato appunto di un vasto periodo di tempo che sicuramente è stato messo in qualche modo in pericolo negli ultimi periodi. Sappiate che, diciamo, la relazione tra questi due... tra le piante e gli impollinatori non solo sono importanti per la riproduzione di entrambi ma per il funzionamento di tutti gli ecosistemi e quindi per la conservazione delle specie viventi. Questo rappresenta ovviamente la base sia della nostra esistenza che della nostra economia. Non solo alcune specie che noi pensiamo nella nostra immaginazione come, diciamo, sappiamo tutti che ci sono dei mieli monoflorali per cui uno immagina che se si mangia il miele di acacia è chiaro che le api visitano i fiori di acacia e quindi va bene, cioè sappiamo tutti che nel mantenimento e nella sopravvivenza di questa specie invasiva in qualche modo esiste un'interazione tra il mondo delle api e le acace. In realtà esiste anche una serie di culture che sono le culture agrarie come i cereali, la frutta, la verdura che sono essenziali per la dieta dell'animale e per l'alimentazione umana ma anche i combustibili, le fibre come il cotone, il lino, i materiali nuovi da costruzione e tutti questi dipendono in realtà da impollinatori. Quindi se noi immaginiamo tutto questo possiamo dire che le stime che sono state fatte per rappresentare il valore economico dell'impollinazione è intorno ai 500 miliardi di dollari e quindi qualcosa di molto, molto vasto. Ora che cosa è successo? Qual è il motivo per cui questa lunga storia di tanti anni, di tanti milioni di anni è messa in pericolo? Perché stiamo assistendo a una serie di fattori che agendo in sinergia fra di loro producono dei problemi. I problemi fondamentali sono la distruzione la degradazione, la frammentazione degli habitat la diminuzione delle terre coltivabili gli inquinanti fisici, chimici ma soprattutto i cambiamenti climatici e ultimo ma non meno importante il discorso delle specie aliene invasive che vanno a distruggere la nostra flora autoctona e creano un disallineamento tra quelle che sono appunto le interazioni tra questi due soggetti. Ora io vorrei farvi capire perché secondo me è uno dei punti veramente drammatici che mettono in pericolo la sopravvivenza della biodiversità sono i cambiamenti climatici e soprattutto il riscaldamento globale. Ora se noi pensiamo che negli ultimi diecimila anni la temperatura media annuale è stata intorno a 14 gradi alcuni lavori hanno dimostrato che nel 2050 la temperatura media annua sarà di 26 gradi. Allora stiamo parlando di qualcosa che avviene in modo repentino e quindi tutta quella storia evolutiva che vi ho brevemente detto di adattamento che ha permesso poi giorno dopo giorno l'evoluzione viene messa gravemente in pericolo e questo è uno dei punti importanti che determina la distruzione di habitat lo slittamento del periodo di fioritura di molte piante e la distruzione delle reti che possono essere anche causato soprattutto da quello che dicevo prima cioè l'introduzione delle specie esotiche. Che cosa fanno queste specie esotiche? In qualche modo diciamo cacciano veramente nel senso che si sostituiscono alle specie indigene e distruggono appunto queste reti ecologiche che si sono create nel tempo. Allora sicuramente dobbiamo andare a capire che laddove meticolosamente sono state messe in atto delle azioni di mitigazione per far avvenire delle corrispondenze fenologiche di alterazione del paesaggio di competizione con le specie di diffusione dei patogeni di allineamento dei servizi ecosistemici ai cambiamenti graduali quando abbiamo gli eventi estremi e per evento estremo intendo anche gli eventi estremi di piogge gli eventi estremi di periodi che non sono più quelli banalmente definiti come stagionali e a questo punto queste opzioni queste opzioni di mitigazione vengono a mancare non si crea più e questa è la parola forse più usata in questo periodo la cosiddetta resilienza cioè la capacità di quelle che sono entrambi i due diciamo individui quindi intendendo le piante e gli impollinatori di modificare e di modificarsi a questi e di rispondere a questi cambiamenti e allora ecco che viene a mettersi si viene a diciamo a creare una situazione di pericolo per tutta la biodiversità e per quelle che sono ovviamente le risorse da una parte delle piante che vanno però a contribuire al successo degli impollinatori allora a questo punto viene a cambiare voi immaginate due emicerchi che combaciano quando c'è il cosiddetto allineamento e la corrispondenza sia della fioritura quindi della presenza di nettare del profumo della disponibilità di polline nelle piante che vengono visitate dagli impollinatori e dall'altra voi avete quest'altro emiciclo dove c'è ovviamente la memoria del tipo di piante e di impollinatori e ovviamente la necessità di dover utilizzare queste piante come cibo come come nettere come polline e quindi come sistema di alimentazione della colonia questo disallineamento crea il problema fondamentale e allora se voi avete un grafico dove avete una curva che è gaussiana perfetta quando c'è il sistema che è allineato avrete sicuramente due curve che sono separate ed è quello a cui purtroppo stiamo assistendo in questo periodo lo vediamo anche in questo periodo dove abbiamo un eccesso di periodo che può ricordare quello della primavera e allora ecco che le piante in qualche modo si cambiano cambiano la loro produttività semplicemente se voi pensate a una pianta la pianta anche la pianta produce il nettare attraverso degli enzimi che sono adattati a un certo tipo di temperatura a un certo tipo di stagionalità a un certo tipo di lunghezza della luce perché ovviamente è questo l'altro elemento importante il cosiddetto fotoperiodo e che cosa abbiamo abbiamo da una parte abbiamo delle fioriture che possono essere precoci o tardive dall'altro abbiamo la perdita della vitalità del polline l'aborto di alcuni tipi di semi e la produzione di nettare che non è più corrispondente a quella che è tutta la storia che noi abbiamo studiato cioè un tipo di alimentazione che può portare ad avere una composizione zuccherina una composizione di sostanze bioattive e così via ora questo se voi lo pensate diciamo in estremo e se noi andiamo a vedere degli altri esempi di letteratura che c'è su questo materiale dove anche qui vediamo che la produzione di nettare è influenzata da una temperatura in modo ottimale come la maggior parte degli enzimi biologici per cui c'è una produzione ottimale intorno tra i 20 e i 25 gradi 27 naturalmente questa produzione ottimale vuol dire che c'è nel nettare la composizione degli zuccheri il cosiddetto bouquet floreale cioè la presenza di flavonoidi di composti volatili che danno le informazioni agli impollinatori nella reperlenza o nell'attrazione di altri tipi di interazioni e allora se noi cambiamo questa condizione e cambiamo questi dati questi input noi abbiamo un nettare meno produttivo abbiamo dei semi maggior parte che ovviamente non sono importanti e questo lo diciamo lo possiamo vedere dal lato della pianta e ovviamente la produzione generale che cos'è è che noi abbiamo degli impollinatori che non sono più che non fanno più quello che è successo in questa lunga storia evolutiva e allora vi dicevo all'inizio questo che significa significa che sicuramente se noi abbiamo una flora apistica fortificata e che cosa intendo fortificata beh formata da elementi autotoni che sono il risultato di una lunga storia in quel periodo e riusciamo in qualche modo a mitigare questi eventi di cambiamento repentini allora abbiamo una situazione che protegge di più dall'entrata di queste specie aliene e di questi diciamo di questa sostituzione che rende più facile il disallineamento che vi spiegavo prima e quindi abbiamo una situazione più protetta allora ecco l'importanza dei parchi delle aree protette delle di tutte le flore dei territori che sono sicuramente curati maggiormente rispetto a quelle di altri ambienti ed ecco anche l'importanza che giustamente diceva il sindaco prima cioè di un contributo dei territori a quella che è la visione globale del New Green Deal per esempio è chiaro che a questo noi ci dobbiamo associare una cosa importante che è la tecnologia perché solo in questo modo noi possiamo rendere diciamo i territori protagonisti di quelle che sono le azioni che vengono fatte a livello locale quindi è importante la protezione della flora autottona è importante che si vanno a creare dei corridoi ecologici che vanno a mitigare queste sostituzioni e che quindi abituano di più i servizi ecosistemici quindi gli impollinatori a proteggere le piante perché come spero che vi ho fatto capire è una relazione veramente simbiontica cioè le piante hanno bisogno degli impollinatori gli impollinatori hanno bisogno delle piante il risultato però di questo problema che vi ho posto e quindi di questo mismatch di questo disallineamento prodotto principalmente dai cambiamenti climatici beh produce dei danni che a lungo andare cominciamo a vederne i primi segnali anche per tutte quelle che sono le culture agrarie cioè una mancanza di come dicevo prima produttività di alcune piante che vengono utilizzate nell'alimentazione il riso la soia l'ice l'orzo esiste esiste diminuzione della produttività di queste piante e naturalmente insieme agli n problemi che sono stati già citati vanno a creare quella che è il rischio dell'alimentazione globale a seguito appunto di questi cambiamenti climatici un'altra cosa che volevo dire è che se i territori sono importantissimi nella proteggere la biodiversità esiste anche una importanza delle città le città devono essere devono avere un ruolo andando a creare una situazione di protezione di alcuni di alcuni punti di alcuni ecosistemi di alcuni habitat che possono avere un ruolo nell'ospitare alcune specie e permettere diciamo una interazione urbana tra impollinatori e piante questo ovviamente richiede degli sforzi importantissimi a livello dei gestori delle grandi città ma se voi pensate che Roma per esempio ha un territorio vastissimo e se si riuscisse ad applicare questo tipo di diciamo di tutela e quindi di tema e di priorità sicuramente potremmo avere da un lato una mitigazione dell'inquinamento e anche un ambiente più fruibile e più utile all'umanità quindi credo che il mio tempo stia finendo cosa dire sicuramente la biodiversità è la biodiversità apistica ma la biodiversità in generale è appunto l'insieme di quelle azioni che assicurano la variabilità genetica che cosa vuol dire vuol dire che se esistono dei cambiamenti qualcuno ce la farà e questo diciamo è la nostra salvezza la nostra salvezza dipende proprio da creare una serie di variabilità perché perché a un certo punto esisterà una diciamo un tipo di genoma che in qualche modo ce la farà rispetto alle varie ai vari stress questo è contro quello che è successo negli ultimi anni sicuramente sappiamo le monoculture tutto ciò che ha incrementato la produttività è andato a sostituirsi alla biodiversità è ora che questo tema venga messo in priorità in tutti i discorsi di economia soprattutto in quelle di economie circolari ma è anche importante far capire a tutti che la conservazione della biodiversità è un tema che riesce a permettere la sopravvivenza non solo delle piante e degli impollinatori ma anche dell'uomo perché altrimenti ci sarà una ovviamente una perdita di quelle che sono le produzioni banalmente a stretto interesse delle alimentazioni è importante capire che a lungo andare questo discorso della perdita della coincidenza dell'allineamento tra piante e api porterà a un depauperamento veramente importante se non agiamo creando delle culture che banalmente essendo diverse nella loro fioritura possono in qualche modo sostituirsi e quindi far sopravvivere gli impollinatori concludo dicendo che è importante la protezione delle specie native perché ci vanno a consentire questa fortificazione e in qualche modo creano delle strutture che evitano l'intervento di specie aliene che favoriscono e rendono ancora più diciamo importante questo discorso della perdita dell'allineamento tra biodiversità e impollinatori e impollinatori e impollinatori Grazie a tutti.